Assessore Rogero, finalmente il planetario sta per diventare realtà, si va verso il completamento di questo museo navale. Esatto, domani pomeriggio daremo la via ai lavori del planetario, hanno tempo, abbiamo dato scadenza per la fine dei lavori intorno a febbraio-marzo, poi ci saranno ovviamente i collaudi, bisognerà formare il personale e quindi poi avremo questo nuovo gioiello che sarà un fiore all'occhiello per la città d'Imperia ma direi per tutta la regione di sicuro perché è il planetario più importante che c'è in Guria e tra i più importanti in Italia. Quindi dobbiamo esserne orgogliosi e allo stesso tempo io ne sono molto intimorita perché voglio arrivare pronta, quindi vogliamo arrivare con un pacchetto intorno, con un sistema intorno che lo valorizzi nel giusto modo, che gli dia la giusta visibilità e che ne crei oltre che un prodotto culturale anche un prodotto di marketing per valorizzare la nostra città, il nostro territorio, per fare cultura ma fare anche turismo perché porterà molta gente e noi dobbiamo essere preparati e quindi offrire un pacchetto culturale che non sia solo planetario ma anche Museo Navale, anche Maci, Villa Faravelli, insomma. Quindi già avviato per la prossima estate. Noi vogliamo arrivare pronti alla prossima stagione, estiva, per offrire un pacchetto turistico culturale.